e come potete vedere dalle moto che ho alle mie spalle direi che possiamo cominciare bene allora ragazzi miei siamo stati deficienti per ora noi dobbiamo arrivare a quella salita e poi vediamo stavo dicendo ora siamo nel punto non ridere che sto parlando stavamo per andare drittissimi meno male che abbiamo beccato quello lì Carlo basta non voglio sentir cantare perché se no mi dico ma è un po' di legna noi dobbiamo andare qua dentro tutto a posto come vedete quel bullicio la si sta facendo fare le foto bene ragazzi siamo arrivati ai piedi della scoglina pianeti pronta Carlo pronto balzo della scoglina incoming ci siamo? here we go balzo della scoglina incoming ci siamo? bene 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 passo della scoglina arriviamo il passo dove ho registrato il video della nuova moto se non l'avete visto come al solito in alto a destra vediamo un po' cosa sa fare la signorina la destra la destra leggermente stretta leggera a sinistra e poi di nuovo a destra No, no, no Mamma mia ragazzi come mettere dentro sta moto nessuna Madonna ragazzi ma sta moto qua da mettere in mezzo alle curve è qualcosa di unico Ha una stabilità spaventosa Tornantino, tornantino Vai di qua Ma che bello Va bene Ma che bello Ma che bello Ma che bello Oh 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 Ma che bello Ma guarda Mamma du Garmin ma che spettacolo di moto Che cazzo di figata Che cazzo di figata è Stratosferica Benissimo ragazzi Benissimo ragazzi siamo nuovamente arrivati sul passo della scoglina Avrete visto ben dal video prima mi sono divertito come un mato Anche Carletto comunque si è divertito Come vedete lì ci sono alcuni membri che abbiamo visto giocare a pallo prima quindi vuol dire che la strada è giusta Adesso noi praticamente dovremmo prendere la strada quella lì e arrivare a Monte Bruno E poi quel che sarà sarà Direi che ci rivediamo in sala tra circa pochi secondi Benissimo ragazzi allora siamo arrivati praticamente in fondo alla strada che porta a barba gelata Ora noi se andiamo a vedere il roadbook Allora noi in teoria abbiamo già fatto questo Ora sì sì Ok allora adesso noi dobbiamo andare Sempre dritto Fino a Rovegno Rovegno Piacenza e avanti così Ah Madò Uh Ah Ok Benissimo ragazzi la direzione è giusta Ha detto di farci Ha fatto seno di andare piano Ah Ah sono qua sono Perfetto benissimo E adesso tutto è in prima e via Ma senti che bella rietta che c'è C'è un'arietta che si sta da dio Madonna E' bello sto pezzo non l'ho mai fatto Allora adesso dovremo andare in teoria adesso verso Piacenza Ragazzi Però io vorrei essere sicuro del fatto che Dobbiamo andare a Piacenza No noi in teoria dobbiamo prendere per Rovegno quindi dobbiamo salire su di qua Sì sì dobbiamo salire su di qua Bene ragazzi Ragazzi siamo E basta sto parlando Bene Allora Comunque stavo dicendo Direzione Rovegno Ahia porca putta Piacenza dritto perfetto Ok Sono le mezzogiorno e uno E noi ce la stiamo prendendo con veramente molta calma perché uno la strada non la conosciamo Secondo questa è più una gita che una scannata ecco Arrivati praticamente all'arrivo ci saranno penso tutte ma proprio tutte le moto praticamente in una piazza Non sto capendo Aspetta un attimo Aspetta Rovegno Piacenza No 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 Adesso noi dobbiamo prendere per Piacenza E le prime indicazioni per Ottone ci siamo Non dovrebbe ancora mancarci molto eh Piacenza ok Adesso in teoria finchè non vediamo un cartello costituito Ottone di là andiamo sempre dritti Allora Ottone Orezzoli in teoria Secondo me è quello lì Esatto Che si è qua e qua e qua e qua e qua Permesso grazie Ah eccolo Paoletto Com'è? Bene Questo è quello che mi ha invitato Lui Ok Benissimo ragazzi siamo arrivati Tutti sani e salvi Bene giro fatto Lui è quello che mi ha invitato Comunque loro fan parte dello staff che aveva organizzato tutto questo Giro Piaciuto? Sì a parte il pezzo di Montebruno che è quello lì è brutto a tutti Bruttino Però per il resto bello bello mi è piaciuto Ottimo Bene adesso riprese delle moto che arriveranno io li ringrazio nuovamente Allora alla prossima direi Alla prossima direi Grande Benissimo Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti 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 Ciao a tutti